ciao ragazzi bentornati sul canale oggi nel video di oggi voglio farvi un piccolo confronto praticamente ho portato due dei miei coltelli lb project one short e il bark river bravo 1 rampless vi vado un attimino a far vedere questi due coltelli farvi vedere un attimino le differenze ok anche le varie diciamo caratteristiche dell'uno e dell'altro e due fantastici coltelli ve li metto un attimino a confronto e vi dico la mia allora guardiamoli un attimino nel dettaglio e in tutta la loro bellezza ok qui abbiamo due coltelli che come dimensioni ragazzi siamo lì 10.8 cm di lama ok i manici più o meno siamo la stessa lunghezza molto comodo il bravo 1 ok vedete affilatura half convex a 0 e il lb1 project one la versione short ho preso la versione short perché è quella che come lunghezza di lama diciamo va a inserirsi nella categoria del bravo 1 lo standard sarebbe stato leggermente più lungo vado a farvi vedere anche le diversità di spessori ok e andiamo a vedere un attimino come lavorano entrambi vi faccio vedere le doti di taglio dei due coltelli vark river bravo 1 lb project one short allora quello che a volte è stato detto è che l lb project 1 sia un coltello che visto il suo spessore non esagerato non è un coltello diciamo nato per i lavori pesanti questo è vero ma questo ci darei a dire che non vuol dire che è un coltello debole un coltello che da solo comunque non può gestire certi lavori nel corso di questi mesi l lb project one è stato messo alla prova l'ho usato io ma l'ha usato anche intensamente miei amici persone che comunque l'hanno comprato e sono rimaste sbalordite della robustezza di questo coltello il fatto di non avere uno spessore simile per esempio al bravo 1 5.5 su una lama così corta è proprio per il discorso di essere un coltello versatile che anche se andate a usarlo su cibo alimenti o magari per cucinare sul campo con uno spessore del genere ovviamente capite che tagliare per esempio delle verdure o dei cibi una volta che se tagliate solo il bordo va bene se dovete tagliare a metà spacca piuttosto che tagliare il fatto di avere questo spessore è proprio per poter entrare meglio ma questo non vuol dire che il coltello non possa gestire ottimamente anche dei lavori più intensi e adesso andiamo a vedere insieme vediamo ad esempio a sezionare questo pezzo di faggio secco come si comportano i due coltelli ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. LB Project 1, aumentiamo un pochino il diametro, ovviamente andando un po' più su. Ovviamente essendo sabré entra di più, vedete quanto entra, mentre essendo convex il taglio è un po' uscente. Mentre invece in questo caso guardate quanto penetra. Grazie a tutti. Coltello a posto. Andiamo avanti. Voglio sezionare questo tronco. Ovviamente vedete il bravo fa un taglio più uscente e penetra molto molto meno. Ma si incastra anche me. Voglio sezionare questo tronco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate quanto entra. Praticamente ho finito. Ovviamente una lama meno spessa, in questo tipo di lavoro, quando ci battete sopra, entra di più, non entra di meno. Ok? Mentre invece una lama più spessa, convex, vi fa un taglio più uscente. Ok? Situazione filo, perfetti in entrambi i casi. Adesso andiamo a fare un po' di buttoning giusto per farvi vedere le differenze. Ok? Qui abbiamo dei pezzi da aprire. Vi prendo il pezzo più largo. Ok? Perché sennò qualcuno potrebbe dire eh ma col bravo ci hai diviso il pezzo più fino. No. Vi prendo il pezzo più largo e ve lo divido per questo senso. Non per questo. Per questo senso. Guardate è la dimensione. Praticamente controllo se ci sono le inquadrature. Praticamente la lama è larga quasi come il tronchetto che sto splittando. Quindi adesso andiamo andiamo a vedere. andiamo di bravo 1 che in questo compito mi aspetto che vada benissimo quanto considerando quando è spesso per questo tipo di compito ovviamente lo spessore agevola in apertura vedete lo agevola in apertura ma non vuol dire non vuol dire è qui qui diciamo è dove al più vantaggio avere uno spessore maggiore ma non vuol dire che un coltello con uno spessore inferiore non riesco comunque a ovviamente vedete entra divide meno ma comunque riesce comunque a dividere tronchetti anche di una certa mole ecco Grazie a tutti. Andiamo a vedere, dividiamo questo fat wood e quindi è molto ricco di rami, ramificazioni. Proviamo, anzi facciamo un bel lavoro. Ve l'ho diviso in due, ok? Due pezzi e andiamo a dividerli con un coltello e con l'altro. Partiamo con l'LB Project 1, vedete la dimensione del tronco, del tronchetto. Andiamo a vedere. Andiamo di bravo. Andiamo a vedere. 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 Andiamo a vedere anche i lavori fini, ok? Truccioli, picchetti, quello che facciamo di solito con i coltelli. Grazie. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Grazie a tutti. 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 Ottimo. Ottimo. Grazie a tutti. 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 a tutti.